Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di un episodio di Terra Amara che potremo vedere sulla rete nelle prossime puntate poiché si tratta di avvenimenti speciali e importanti che andranno in onda più avanti nella storia di Kukurova. Se non volete sapere nulla prima del tempo, non guardate questo video. Se invece siete amanti degli spoiler, siete sul canale giusto. Ma vi invito, come sempre, prima di iniziare a guardare il video a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Dopo che Zuleyla è stata sparata da Mujigan facendolo passare per tentato suicidio e dopo che la ragazza è stata ricoverata e operata d'urgenza Nemir si reca in ospedale dal dottor Sabatin il quale rimprovera lo Yaman accusandolo di essere stato l'artefice del dolore di Zuleyla. e che quindi, a causa sua, lei ha tentato questo gesto estremo. Nemir non può far altro che incassare le accuse e il suo rimprovero e gli dà ragione. Nemir si pente per ciò che ha fatto e Sabatin lo sprona a fidarsi di sua moglie Zuleyla e di lasciarla vivere serenamente da questo momento in poi. Durante la loro conversazione, Aykut li interrompe e dimette Zuleyla dall'ospedale che ne è molto felice. Sabatin le raccomanda di stare attenta e di prendersi cura di lei stessa e soprattutto di non dimenticare di prendere le medicine. Così lo Yaman interviene dichiarando che sarà lui stesso a prendersi cura di Zuleyla e a far sì che lei prenda tutto il necessario che serve per stare bene e riprendersi così al meglio. Così, rientrati in villa, Demir esorta Gulten a preparare le valigie di Zuleyla per partire. Unker e Sanye sono felicissime di riaverla a casa, ma Unker chiede come mai fosse stata dimessa così presto. Allora, Zuleyla raggiunse i suoi figli in giardino con l'aiuto di Sanye e mentre è impegnata con i suoi bambini Unker rimprovera suo figlio Demir. Mentre Zuleyla era in ospedale, la matriarca ha scoperto che l'ha tradita con un'altra donna e quindi non vede il motivo per cui Demir sia lì a prendersi cura di Zuleyla. Demir a questo punto esorta la madre a smetterla, sminuendo così ciò che ha fatto e dicendo a Unker che ne parleranno più in là perché per adesso la sua priorità è Zuleyla. Terminata la conversazione con sua madre, Demir raggiunge Zuleyla in giardino che sta giocando con i suoi figli. E si siede vicino a lei. Unker, imbarazzata dalla situazione, entra e va in cucina mentre Sanye si domanda come possono aver dimesso Zuleyla così presto dopo ciò che le era successo e visto che era in gravi condizioni fino a pochissimo prima. Gafur che è presente vicino a sua moglie fa finta di nulla ma Sanye rivolge poi la domanda direttamente a lui. Così Gafur le risponde giustamente che i medici sanno quello che fanno e avranno avuto le loro motivazioni. Nel frattempo arriva Chettin di Corsa che ha bisogno di parlare con Unker di una questione molto importante. Sanye corra a chiamarla in casa mentre Gafur vuole sapere da Chettin che cosa sia successo di così grave. Il ragazzo però fino a quando non arriva alla matriarca non apre bocca. Così una volta giunta a Unker Chettin le rivela che Atip è stato trovato senza vita nel bosco. La matriarca e suo figlio rimangono allibiti mentre Gafur rimane di sasso. Il dipendente di Fekeli svela anche che potrebbero essere stati certi uomini di Anker e che a breve le autorità raggiungeranno Fekeli al club per chiarire come si muoveranno. Demir a questo punto esce di casa e Sanye mi approfitta per chiedere alla matriarca se secondo lei la moglie di Atip avesse già saputo di quella terribile notizia. Unker ovviamente non sa nulla se lei lo sappia o meno e quindi decide di raggiungerla per accompagnarla e starle vicine in questo difficile momento. Mentre esce per raggiungere l'auto aiutata da Rasit Gulten la vede e chiede a Sanye il motivo per cui Unker stia uscendo. Sanye le dice ciò che è successo ad Atip e che forse sono stati gli uomini di Anker. Ma Gulten dubita che siano stati quegli uomini così subentra Gafur che inizia a urlare contro di lei esortandola a non mettere in dubbio la colpevolezza di quegli uomini. Successivamente Gulten rientra a casa ma Ilmaz vedendola la invita ad entrare da lui per parlare. Così una volta da soli Ilmaz le chiede notizie di Zuleyla dicendo a Gulten di averla vista rientrare dall'ospedale con Demir. Ma la ragazza lo esorta a non fare nulla perché Demir già l'ha fatta soffrire abbastanza. Crede che Zuleyla non abbia la forza per reggerla. Akaya però la tranquillizza e le assicura di non avere intenzione di agire in nessun modo perché Zuleyla è stata molto paziente con lui e ora tocca a Ilmaz esserlo con lei anche perché le ha promesso in precedenza che agiranno solo in base a ciò che lei decide. Subito dopo però visto che ha notato Demir e Unkar uscire chiede alla ragazza di poter andare a trovare Zuleyla per parlare ma Gulten inizialmente sembra essere un pochettino titubante poi però si convince e rientrata a casa riporta a Zuleyla il desiderio di Ilmaz così Zuleyla, Gulten e Adnan escono dalla villa per andare dall'Akaya con il suo bambino ma Sanyè vedendoli chiede subito dove stiano andando e Gulten le risponde che stanno andando a fare una passeggiata sotto consiglio dei medici per agevolare Zuleyla a riprendersi il prima possibile. Sanyè sembra essere molto contenta di vedere Zuleyla in netto miglioramento così saluta calorosamente Adnan mentre Zuleyla le svela che dopo tanto tempo separati a causa dell'accaduto ora finalmente stanno di nuovo insieme. Anche Sanyè è contenta di questo. A questo punto Gulten e Zuleyla si recano da Ilmaz e il ragazzo appena vede Adnan lo abbraccia molto forte baciandolo benevolmente. Zuleyla si commuove e li raggiunge abbracciandoli tutti come una famiglia. Gulten con il cuore in lacrime per i due amanti si allontana per lasciarli soli e mentre Ilmaz è soprafatto dall'emozione e dall'amore rivela a Zuleyla che non smetterà mai di cercare suo figlio e di volerlo vedere e Zuleyla dolcemente gli confida che quando è sola non lo chiama Adnan ma Ilmaz come lui. Inoltre Zuleyla spera di essere stata perdonata da Ilmaz ma quest'ultimo la rassicura dicendo che non deve perdonare proprio nulla e che anzi è lui a dover chiedere le sue scuse svelando che non era a conoscenza di quando stava passando lei con Demir e inoltre le chiede come ha potuto farlo come lui abbia potuto essere così crudele con lei. Zuleyla a questo punto gli dice che devono aver pazienza e che devono aspettare il momento giusto per evitare altre complicazioni e soprattutto per evitare di arrivare a un punto cieco dove poi non avranno più possibilità di coronare il loro sogno d'amore. Quella stessa sera Zuleyla svela a Ilmaz che in realtà lei non ha tentato il suicidio ma che Musican con un inganno l'ha chiamata per incontrarsi nel bosco facendo finta fosse Ilmaz e dopo averla costretta ad impiccarsi senza successo gli ha sparato un colpo di pistola. Il video è terminato se vi è piaciuto lasciate un like ed attivate la campanellina delle notifiche così da essere sempre aggiornati sulla vostra storia turca preferita e non solo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo Grazie a tutti